Eccoci cari telespettatori stiamo parlando di atti gravi di bullismo di vittime di vittime soprattutto parlando di vittime prima di riprendere il filo del discorso con la dottoressa filieri e con la consigliera regionale cavinato vediamo questo video insieme Grazie 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 Le persone che fanno riflettere, è mai possibile, e queste sono solo alcune delle vittime dell'ultimo periodo peraltro. Sono bambini, ragazzi, persone che c'erano veramente, non è un'invenzione una cosa? Sono bambini, sono bambine, sono ragazzi e ragazze che c'erano. Abbiamo visto nelle brevi di De Ascalie, Bethany che sopravvive a un cancro ma muore di bullismo, un cancro al cervello ma muore di bullismo. Michele sopravvive al suo danno da vaccino ma muore di bullismo, Sergei troppo bello, preso in giro perché troppo bello. Ma chi sono questi bulli? Sono dei gruppi quindi? Guardi, le dirò molto semplicemente. Oggi, come dicevo prima, abbiamo avviato con l'Istituto Mazzini, l'Istituto Paritario Mazzini di Treviso. Proprio oggi è partito questo progetto, fatto in collaborazione con Fondazione Libra ed è un progetto che si chiama Cosa faresti tu? E oggi per l'avvio ho incontrato i ragazzi. Sono stati loro a rispondere, quello che già continuo a dire da diverso tempo. I ragazzi non sono bulli, non nascono cattivi. E alla domanda, chiaramente sollecitandoli a ragionare, che cosa ti fa essere così? Perché sei così? Perché fai così? Quindi un ragazzo ha detto, io non voglio essere cattivo, però dall'altra parte non si sa la situazione che c'è a casa. Non sai perché, magari io vedo il mio compagno di classe che ha i genitori che si vogliono bene, ha i genitori che gli stanno dietro. Io invece ho un papà che non si prende assolutamente cura di me, non sa neanche come mi chiamo. Mia mamma sì che mi considera e anche no, dovrei essere contento. Io sono arrabbiato, io sto male. Non giustifica questo, nel modo più assoluto, azioni vessatorie nei confronti di altri compagni. Però riuscire a intercettare, intervenire, come sta facendo questo dirigente? Perché è un dirigente, il dottor Suria, lo dico illuminato, perché piuttosto che espellere, piuttosto che bocciare, ci chiama e mi dice, guardi, io voglio che questi ragazzi continuino a venire a scuola da me. Devono continuare a venire a scuola perché questo è il mio ruolo di educatore. È importante, è importante riuscire come insegnante, come dirigente a tenere tutti in barca. E non vale più il gioco, allora, se non sei così, io ti butto fuori. Perché è quello che costantemente fa la società, vengono buttati fuori, si sentono buttati fuori dalla famiglia, si sentono buttati fuori dal gruppo di pari, dal gruppo di amici, si sentono buttati fuori dal contesto scolastico. Contesto in cui passano un sacco di tempo, passano la maggior parte del loro tempo. Ma questi, i bullizzati e i bulli? Questi i bulli? I bulli, ma i bulli però fanno gruppo, cioè sono i leader, a volte considerati i leader. E perché qua mi allaccio anche al signore di 60 anni e purtroppo sono fatti delle baby gang. Baby gang sono fatte tante da ragazzi stupidi che vabbè, che non hanno nessun peso. Criminali? Esatto, no, da quelli, gli aggregati e poi i criminali veri e propri, no, quelli che attuano, certi come gli altri, lo scodazzo, no, che dà la forza, però dopo ci sono quelli che attuano questi comportamenti, sono sempre, il baby gang adesso si tratta per tutto. E fanno paura, eh, attenzione. Fanno paura, sì, però bisogna comunque, come diceva la consigliera, intervenire e parlarne. Fanno gruppo perché fanno gruppo e perché ci si aggrega. Il gregario, chi è il gregario? È quella persona che vorrebbe avere quella forza che viene comunque palesata dal bullo, non mi piace chiamarlo bullo, ma dalla persona fragile che manifesta con la violenza la fragilità. Eh, forse è meglio. Aggressivo, sì. Quindi trova l'unica via di fuga che ha è quella, quella che conosce. Perché se non ha amore dall'altra parte, non è riuscito ad acquisirlo nel tempo dalle figure di riferimento che sono i genitori, è chiaro che in qualche modo deve adoperarsi per poter sopravvivere. Ci ho detto, sono delle persone che a loro volta hanno una fragilità, ma hanno anche paura di essere sottoposte a quello che è il dominio del bullo. E allora si aggregano. Si aggregano per poter evitare di cadere, quindi di entrare in quella cerchia, diciamo così, di aletti che li mette un po' al riparo da quello che è la dominanza di questa persona. Però a ben guardare, e anche stamattina io sono tornata prima dicendo, vedi ma i ragazzi veramente poi ti dicono, cioè basta parlargli, basta ascoltarli, basta veramente sentire quello che hanno da dire. Perché hanno molto da dire. E allora dall'altra parte ti dicono, ma se io non ho nessuno che mi ascolta e se io non trovo in un adulto, in un insegnante qualcuno che effettivamente possa prendersi cura di me, io non gli affido pezzi di me. Perché per me quei pezzi sono importanti. E non è un discorso sbagliato, è un discorso che farebbe chiunque di noi. Perché io mai mi sognerei di potermi confidare con una persona che poi butta via quella confidenza. È una cosa normale. E allora di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando probabilmente di ragazzi che hanno bisogno di avere guide. Perché gli abbiamo messo in mano, purtroppo, un mondo che corre più veloce di noi, non di loro, di noi. Gli abbiamo immersi all'interno di una bolla di solitudine, perché abbiamo pensato che forse sarebbe stato meglio riempirli di cose per poterli far arrivare. Forse sopperendo a nostre mancanze, sopperendo a quello che potevano essere i nostri desideri non raggiunti. La domanda è sempre quella. Siamo sicuri che quello che stiamo facendo con i ragazzi non dovremmo prima farla con noi, con gli adulti? Perché dall'altra parte ci troviamo dei genitori che nel momento in cui leggono che nel sito della Fondazione Libra ci occupiamo di bullismo, ah ma lei quindi pensa che mio figlio è un bullo? È quello che dicevo un po' all'inizio. No. Restano sconvolti e è innegabile che... Il fatto di non conoscere e vivere, continuare a vivere nell'ignoranza, ma ignoranza nel senso di non conoscenza, non ci permette assolutamente poi di capire effettivamente lo sviluppo dei nostri figli, come si stanno sviluppando, come stanno crescendo. E le loro richieste sono vane. Assolutamente. Che cosa ne colpisce di questo, consigliere? Perché ci sono alcune cose che mi hanno detto che sono state un po' toccanti, secondo me. E forse scardinano anche certe certezze che uno ha, no? Sì, certo. Forse bisogna, non lo so, pensare a una famiglia un po' diversa, un po'... Ritornare forse alle origini e avere uno scambio di opinioni, di idee, di spegnere magari la televisione, lo so che in questo caso non potrei dirlo, però... E di parlare, e di parlare, perché credo sia questo l'importante, di capire i ragazzi. Anche perché non vogliono parlare. Perché appunto quando esiste il web, esistono altri mondi, parlare per loro è... Sì, è difficile. È difficile. È difficile magari farlo in famiglia. Mi viene a dire... Non è così in tutte le famiglie, ovviamente, però nella maggior parte dei casi, almeno che io ho potuto vedere e conoscere, è così. Mancanza di dialogo, quindi. Sì, la mancanza di dialogo. In altre, invece, ho visto il fatto di coinvolgere i ragazzi nella vita normale della famiglia quotidiana da quel che è di consapevolezza diversa anche nella vita, anche nel rapporto che si ha con gli altri. Assolutamente. Non... Allora, pensare a un genitore come di una volta è impossibile. Il padre di una volta, la madre di una volta non è più concepibile, anche perché il genitore ha 50 anni. Insomma, diciamo, è un vissuto di un qualche cosa e forse anche rinnega certi rapporti genitoriali che ha a sua volta vissuto, no? Quindi tutto completamente diverso. Però tanto nebulizzato quanto nebulo c'è dietro una famiglia che è qualcosa, peccato. Perché penso anche, rivedendo anche il video, pensando tante situazioni, vuol dire che se tu hai un figlio che subisce certe cose e non è in grado di reagire, c'è qualcosa che gli è mancato. O no? Chiedo un po' a lei che... Allora, volevo dire una cosa. È vero, Elisa ha ragione, la consigliera ha ragione, dovremmo recuperare un po' il senso della famiglia. È altrettanto vero che la famiglia di una volta non possiamo più averla, le famiglie sono cambiate. Il concetto stesso di famiglia è cambiato. Ma anche di genitore. Genitori che diventano, no, grandi, genitori a 50 anni, due mamme, due papà, e piuttosto che famiglie allargate. Quindi veramente diventa complesso riuscire oggi a dare una definizione di quello che è famiglia. Cioè, se chiediamo oggi che cos'è una famiglia, probabilmente faremo fatica anche a dire che cos'è la famiglia, se non recuperando quello che sono le nostre reminiscenze, quello che abbiamo vissuto. È altrettanto vero che dove manca la famiglia, ed è per questo poi l'azione di rete, l'azione interistituzionale, dove manca la famiglia è necessario che intervenga la comunità. A quel punto la comunità deve diventare, dovrebbe diventare comunità educante. La scuola, l'oratorio, se ci fosse qualche sparuta presenza. È vero questo discorso, però io ho delle situazioni che mi sono state raccontate, dove il situazione del bullizzato in questa volta, di chi subisce bullizzata anche, la comunità non c'era per niente, ma neanche gli stessi insegnanti venivano a mancare. Dicevano, no, è impossibile, nella mia classe non è vero questo. È un discorso a catena, quello che un po' abbiamo fatto prima. Il fatto di non riuscire, di non sapere, quindi di non conoscere, di non essere informati su quelli che possono essere e i prodromi, piuttosto che poi le azioni che si conclamano in azioni di prevaricazione, in azioni di violenza, che si possono trasformare e rientrare nel macrofenomeno del bullismo, ci rende inconsapevoli di quello che accade. Ma questo a livello comunitario, non solo a livello familiare. Quindi è un fenomeno sottostimato. Assolutamente sì. Il passaggio tra il bullismo, quindi l'azione che viene perpetrata da anni di quella singola persona e la formazione poi di baby gang, sempre violenza è, sempre giovani ci sono, stiamo parlando in molti casi di minori, alcuni casi, qualche maggiorenne, ma poca cosa, che stanno diventando molto importanti. importanti, non perché sono importanti, ma ci stanno dilagando. Che correlazione c'è? Una correlazione molto forte perché poi ritorniamo sempre a quel discorso, è sempre una concatenazione, bisogna vedere cosa trovano fuori. Se dentro non lo trovo, quindi dentro al cerchio, dentro a quello che è il tessuto familiare, dentro al tessuto comunitario, allora lo trovo fuori, sfogando tutto quello che è la rabbia, attraverso la violenza. Quindi agiti violenti. La rabbia c'è sempre. La rabbia c'è sempre, assolutamente, è quel senso di rabbia che non è etero diretto, quindi che non rivolgo verso me stesso, ma verso l'altro, verso gli altri, o le cose, mi fa sentire vivo, mi fa sentire che ci sono. Cosa che non accade in casa, cosa che non accade a scuola, cosa che non accade nella comunità. Ma allora le istituzioni, prima, dopo un punto di vista scientifico ti chiederei, secondo lei, lei che rappresenta le istituzioni, mettendosi nei panni di un sindaco, di un amministratore, di un comune, anche della regione stessa, che cosa possono fare? Perché queste sono piccole bande che si trovano in tutti i comuni, dei più piccoli ai più grandi, più o meno organizzate e più o meno dannose, perché possono danneggiare cose, come anche persone, abbiamo visto quel sessantenne, beh, ce ne sono tanti casi. Certo, sicuramente credo sia d'aiuto a fare rete tutti insieme e ad arrivare a portare questo problema e risolverlo contemporaneamente in tutti, diciamo, a tutti i livelli. I livelli. Sì, sì. Poi, rilasciandomi al discorso di prima, io intendevo l'essenza della famiglia. Certo, sì. Cos'è l'essenza della famiglia? Crescere insieme, risolvere i problemi insieme, volersi bene, perché adesso sappiamo benissimo che la famiglia non è più la classica famiglia, però non vuol dire che non lo sia, anzi. Infatti, volersi bene, lei aveva parlato di amore, sono cose che dovrebbero essere la base e invece non sono più così scontate. Che cosa dovrebbero fare le istituzioni, secondo lei, come psicologa forense? Allora, le istituzioni... Lo so che non è facile. È una bella domanda, è una domanda anche spinosa, perché le istituzioni dovrebbero... Allora, questo purtroppo è un problema multidisciplinare. È un problema che va affrontato e sotto il profilo sociale, e sotto il profilo psicologico, e sotto il profilo legale, e sotto il profilo sanitario. Quindi abbraccia tutta una serie di ambiti di vita che devono essere necessariamente indagati. Le istituzioni dovrebbero, secondo me, supportare con degli interventi che non siano, perché già lo fanno, perché il Ministero dell'Istruzione comunque obbliga le scuole a fare dei percorsi formativi, ma non possiamo pensare a percorsi formativi per gli insegnanti che siano percorsi preconfezionati. Io non posso andare in piattaforma e prendere quel percorso formativo che è uguale per tutti. Non è così. Ogni scuola dovrebbe fare una valutazione dei rischi su quello che è il rischio specifico per il proprio istituto. E i progetti andrebbero costruiti su misura, come qualcosa proprio che calza addosso, perché siamo individui e i nostri ragazzi sono individui e gli interventi devono essere fatti sugli individui. Quindi persone in continua evoluzione. Non possiamo pensare di andare in un centro commerciale e di trovare tutto pronto e di buttarglielo addosso e pensare che cambino. Non è così, nel modo più assoluto. Devo poter riuscire a dare a queste persone quel supporto anche psicologico. Abbiamo sentito quell'episodio di quella mamma che dice, è accaduto poi peraltro proprio nella nostra regione, ha fatto questo, mio figlio ha fatto questa strage, ha compiuto questo gesto, perché io sapevo che aveva bisogno dello psicologo, però non avevo soldi per potermelo permettere. Non è vero. Esistono i consultori. Ma è vero anche che dall'altra parte bisogna anche, non riescono a sopperire a quelle che sono le richieste. Perché dal punto di vista del bullismo, del cyberbullismo, della violenza di genere, poi dobbiamo avere squadre di professionisti che siano professionisti preparati ad affrontare il problema. Perché dice, se la cosa deve essere affrontata in un singolo, anche istituto, ci deve essere quel singolo professionista che l'hai dedicato. Per cui risorse che non ci sono, pubbliche, risorse pubbliche, e poi alla fine anche questo che non ci sono, quindi anche lì, progetti regionali però a quel punto, magari, oppure visto che è un problema secondo me trasnazionale, progetti europei. Sì, certo, beh, come dicevo prima, a tutti i livelli dovrebbe essere portato, anzi ad arrivare a una figura che possa essere inserita addirittura nelle scuole, piuttosto che in ambito sociale o sanitario. Sì, nelle scuole c'è il referente per il cyberbullismo ed esiste la figura dello psicologo scolastico, però, come dicevo, la formazione che c'è rispetto a queste tematiche non è sufficiente, deve essere più puntuale. Non deve essere una formazione mirata, non deve essere una persona nominata o che si assume l'incarico solo per adempiere a quelli che sono gli obblighi burocratici, quindi per dire, ok, ce l'ho, anche io ce l'ho, non è così. Assolutamente, siamo giunti a termine, vorrei affrontare ancora con voi questo tema perché non si può lasciarlo così, cioè, solo battendo, insistendo con le cose, forse si fa breccia e si insinua il dubbio anche in chi ci segue, in voi che ci seguite, che possa qualcuno che ci sta vicino subire o essere autore di certi atti, perché bisogna anche inoculare certi tarli, eh. un consiglio che si sente di dare da professionista? Oddio, ce ne sarebbero milioni, però uno mi sento di darlo ed è quello di riuscire a capire la dimensione del fenomeno attraverso una buona informazione. Molto spesso sento parlare di bullismo e in uno degli ultimi convegni in cui sono stata invitata ho sentito parlare una mia collega che purtroppo diceva che se un bambino dice a un altro bambino le tue scarpe sono brutte, quello è bullismo. No, non è vero, non è quello il bullismo. Quindi riuscire a determinare quella che... Cos'è il bullismo? Il bullismo è una serie di azioni, di prevaricazioni che sono protratte nel tempo, quindi ci deve essere una temporalità perché se io dico alla consigliera che la sua camicetta oggi non mi piace, per esempio, questo non è bullismo. Ok, certo, sono segnali che vanno attenzionati, ma soprattutto riuscire a ascoltare un po' di più quelle che sono le richieste dei nostri figli, ma non richieste comprami, fammi, non quelle. Le richieste di essere proprio ascoltati. Vi garantisco che nel momento in cui riuscite a tendere le orecchie e ascoltare quello che hanno da dire, la maggior parte dei problemi saranno loro a dirci come fare a risolverli. Quindi entrare a gamba tesa nella vita dei figli nel modo più assoluto. E chiedere aiuto, non avere paura di chiedere aiuto, non è un segno di debolezza. Anzi, chiedere aiuto è il miglior modo, il primo passo per uscire dalla violenza. Non mi stancherò mai di dirlo. Grazie, dottoressa. Traigo, grazie. La battuta di chiusura, consigliera, e le istituzioni? Sì, le istituzioni, io personalmente sto collaborando con l'associazione perché sono sicura che comunque il lavoro che faremo, adesso non voglio svelare di più, sarà importante. Quindi ne avremo ancora notizia. Sì, sì, assolutamente. E quindi io credo in questa cosa e credo che riusciremo a sviluppare questi nuovi progetti per, non dico eliminare, però cercare del nostro contributo per migliorare. No, ma infatti bisogna appunto, come si diceva, farrete, cercare di venirne a capo. Grazie, mi è stata chiusura, consigliera, grazie dottoressa Filieri di averci dato questo ulteriore apporto importantissimo perché bisogna parlarne, bisogna cercare di fare cultura, informazione, prevenzione. Poi una prossima volta parleremo di prevenzione. Ok. E gli elementi sintomatici, perché giustamente ci hanno scritto di parlare anche di questo, quali sono i sintomi, come fare ad accorgersene, che cosa, lo so, non è semplice. A voi, cari telespettatori, grazie anche di aver seguito in questa parte. Vi lascio naturalmente alla pubblicità e un buon proseguimento. Seguiteci.